In questi giorni a Cervetri si sono alzate un polverone di polemiche per via dell'aumento della tari del 10%. Chi meglio dell'assessora all'ambiente Elena Gubetti ci può spiegare questa variazione? Purtroppo è vero, non è mai facile quando bisogna alzare le tasse ai cittadini ed è normale che ci siano le polemiche. C'è stato un rialzo medio per famiglia di circa il 10%. Questo purtroppo è dovuto a aumenti che non dipendono da scelte politiche ma da aumenti di natura puramente tecnica. Eppure i cittadini avevano ricevuto notizie qualche tempo fa che la tari non avrebbe avuto delle flessioni? Purtroppo anche noi pensavamo di andare in questa direzione. Infatti nonostante l'aumento di quest'anno del 10% rispetto al 2016 riusciamo comunque a rimanere con le tariffe al di sotto del 16-20% rispetto a quando non avevamo il porta a porta. Quindi l'azione intrapresa dall'amministrazione per risparmiare c'è stata. Gli aumenti sono dovuti essenzialmente agli aumenti dei conferimenti nelle discariche. Per cui vi faccio un esempio. L'organico è aumentato di 10 euro a tonnellata. Prezzo che purtroppo non stabiliamo noi, non stabilisce la regione. Ecco perché secondo me andrebbe fatta una riflessione a livello nazionale. Questi prezzi dovrebbero essere calmierati e stabilite delle tariffe massime perché se no i cittadini pagheranno sempre di più.